Il libro che vi presento oggi si intitola Il muro, vita precaria di Giovanni Tacchini, edito da Romanzo Fondazione Mario Luzzi Editore. Angelica Isola è l'autrice di questo libro, lei è un mastro tacchino di 32 anni, in saccoccia, laurea e briciole di esperienza lavorativa accumulate in diversi campi da semina. Nulla è dato sapere sullo stato del suo cervello irrequieto, le braccia in fuga però sono state ritrovate in Svizzera e siamo collegate con Angelica Isola via Skype alla quale diamo il benvenuto. Ciao, bentrovata Angelica. Ciao, buongiorno a tutti. Diamoci del tu perché sei giovanissima, anzi siamo quasi coetanei, diciamolo pure anche se ti supero di un paio d'anni. Siamo anche colleghi in quanto tu lavori per la radio televisione Svizzera, sei a Lugano e hai anche dato vita a questo romanzo molto divertente, molto intenso che si intitola Il muro, vita precaria di giovani tacchini. I protagonisti sono due tacchini, aceto e brando. Quale dei due tacchini ti rappresenta di più? Tutti e due, insomma, chiedere a una madre quale figlioccio è il preferito, nel senso che sono tutte e due parte di me, quando fa bello e quando fa brutto. Aceto e brando sono fondamentalmente le anime dell'autore, cioè le anime mie ma anche le anime di qualsiasi lettore che si trova a vivere un momento di difficoltà come può essere quello della precarietà. La precarietà che è il tema che io tocco nel mio romanzo, la precarietà che tocca soprattutto i giovani, fondamentalmente isola la persona che vive questo dramma. Un dramma che in un certo senso si riflette anche nell'anima della persona che affronta delle difficoltà, un'anima che poi alla fine si spacca in diverse personalità, un brando e un aceto, quindi chi sono io sono sia brando che aceto. Perché questo romanzo si intitola Il muro? Il muro perché tutto il romanzo viene ambientato su di un muro. I tacchini che sono i protagonisti del libro raccontano come vedono l'Italia, raccontano le loro difficoltà esistenziali attraverso le avventure che vivono su di un muro. Il muro fondamentalmente alla fine del libro si scoprirà è la mente e i tacchini non sono altro che le proiezioni della persona che pensa. Dunque fondamentalmente ho deciso di scegliere il muro, perché tu magari mi puoi chiedere perché hai scelto il muro e non magari un giardino, perché non una casa. Perché il muro mi dava l'idea di un faraglione, di qualcosa, ultimo baluardo, quasi inattaccabile, delle pietre, solo pietre, poco altro. Mi veniva in mente sempre l'immagine di un'onda che si scontra contro un piccolo solitario muro e quindi ho pensato proprio per questo, al muro, perché è l'unica cosa che rimane. A pagina 105 il manifesto del giovane Tacchino, ce ne sono diversi di manifesti del giovane Tacchino, a che cosa ti sei ispirata per stilare questo manifesto? Alla tua esperienza personale immagino anche. Sì, diciamo che il libro è in parte autobiografico, in parte chiaramente è nato dall'urgenza di dover raccontare quello che io per prima ho vissuto sulla mia pelle in anni di ricerca di lavoro, in anni di precariato, ma è anche un romanzo che in un certo senso raccoglie tutte le sollecitazioni, gli stimoli di amici e non amici che durante il mio percorso ho incontrato e che anche loro, e sono davvero tanti, vivono e sono confrontati ogni giorno con la precarietà. Il manifesto del giovane Tacchino, lo confesso, è stata la prima pagina, sono state le prime pagine che io ho cominciato a scrivere, sono quelle che ho scritto di getto, di botto, mi sono chiusa in camera e in fai un giorno e mezzo senza andare a dormire l'ho scritto tutto, proprio perché era qualcosa in un certo senso scritto di getto e un po' di rabbia, era qualcosa che volevo e dovevo dire, quindi lì proprio ho sentito l'urgenza di doverlo scrivere, dopo l'ho dovuto molto asciugare, non avete idea di quante anche pagine ho dovuto buttare via, però è nata proprio come un'urgenza di dover comunicare, come reagire alle persone che sono in difficoltà come me e magari non hanno la forza di venirne fuori. Hai già ricevuto dei riscontri da giovani precari che hanno letto questo romanzo, in un certo senso si sono sentiti rinfrancati, hanno magari detto sì, anch'io mi sono sentito così, anch'io mi ritrovo in uno di questi due tacchini precari. Sì, guarda, non hai idea di quante persone la cosa mi sorprende, nel senso che io ho cercato di dare vita a un romanzo per quanto possibile vicino alla realtà, ma la prova del nove è stata proprio quella di avere dei riscontri di persone che magari lo leggono e mi dicono sembrava che fossi nella mia testa, mi hai fatto ridere perché quello che capitava a me quando mandava il curriculum era la stessa identica cosa che tu hai scritto nel libro, quindi da una parte si sentono rinfrancati perché si trovano meno isolati, perché come dicevo all'inizio il precariato atomizza, rende soli e quindi all'inizio ti viene anche il dubbio di essere l'unico parto andato a male, poi però ti giri attorno e vedi che sono in tanti a vegetare nella tua stessa condizione e io penso che è proprio il condividere se vuoi un dramma, però fare un percorso di crescita assieme che fa stare meglio tutti e fa sostenersi a vicenda, alla fine è una questione di solidarietà. Sì, è proprio così, è un libro appunto che si legge con grande facilità ma che ti lascia sempre, ti lascia qualcosa dentro, fino a qualche anno fa precariato non sapevamo neanche che cosa significasse, ora è diventato un termine all'ordine del giorno, si parla di lavoro precario, si parla di vite precarie e a volte anche di sentimenti precari, c'è qualche speranza secondo te di uscirne fuori? Io volevo più che altro sottolineare quanto hai detto tu nel senso che veramente la precarietà adesso è scoppiata, però prima della crisi della zona Euro c'era già, il problema che era nascosta, toccava forse i figli degli ultimi, non era così diffusa, riguardava magari solo il mondo giovanile, ora adesso non è più così, chissà quanti dei tuoi telespettatori che ci stanno seguendo a casa hanno un tacchino, secondo me al 99,9% tutti a casa hanno un tacchino, può essere il figlio, può essere il marito, può essere anche la moglie, siamo tutti nella stessa condizione, in termini molto più brutti siamo tutti sulla stessa barca e quindi su una barca bisogna veramente darsi una mano, costruire una nuova società basata sulla solidarietà, perché non si può lasciare solo chi sta vivendo un momento di difficoltà e magari sta esitando, dall'altro elemento secondo me fondamentale è quello di costruire una società basata sulla meritocrazia, una società va avanti, si evolve e migliora solo se decidiamo di darci delle regole, rispettarle e mettere nelle posizioni le persone che si meritano di essere in quelle posizioni perché sanno fare qualcosa meglio degli altri, sarà banale, perché lo so che è banale, non ci sono ricette di lunga vita, però è così. Angelica, sei scappata dall'Italia oppure sei andata lì dove hanno avuto bisogno della tua professionalità, della tua presenza, del tuo lavoro? Non sono scappata dall'Italia, la mia è stata una scelta di vita, ho deciso di andare a lavorare in Svizzera perché prima di tutto seguivo già da tempo la televisione e la radio dove adesso sto lavorando ed è stato un lento e lungo avvicinamento per tappe, per tentativi, è stata proprio una scelta di vita e professionale, in più loro mi hanno voluto e hanno scommesso su di me, per cui è stato un amore a prima vista ricambiato, magari non proprio a prima vista ma dopo un paio di tentativi. Senti ti faccio una domanda banale anche un po' stupida che immagino ti abbiano fatto in 150.000, ti manca l'Italia? No, sinceramente no, però non voglio apparire come sai, i classici giornalisti che li mandano inviati a Parigi, li vedi alla televisione con dietro la Torre Eiffel e che dicono sì ma voi in Italia, ma come voi in Italia, sei italiano pure tu, quindi io non voglio passare per questo, assolutamente, io sono italiana a tutti gli effetti, appunto perché sono italiana e ci tengo il mio paese e ho scritto questo libro, che vuole essere proprio un tentativo di ridere un po' su un tema molto delicato che è quello del precariato e allo stesso tempo cercare comunque di seminare e contribuire nel mio piccolo a creare un movimento, perché dobbiamo creare un movimento per cambiare qualcosa, oppure l'Italia non andrà avanti. Detto questo, io dove lavoro e dove vivo ora mi trovo veramente bene, quindi non mi manca da quel punto di vista. Allora, quindi possiamo dire che questo libro è un atto di amore nei confronti del tuo paese, ecco dai, sono contenta di averti avuto ospite quest'oggi, vorrei ricordare che esiste anche un sito internet dedicato ai giovani tacchini, lo vogliamo, lo vuoi ricordare tu Angelica? Sì, sicuramente, chi vuole dare un occhio e magari lasciarci una sua impronta può andare su www.ilmurodeitacchini.it Perché ognuno ha il suo muro, così come cita la quarta di copertina. Il muro, vita precaria di giovani tacchini, edito dalla fondazione Maria Luzzi e a firma di Angelica Isola, Mastro Tacchino di 32 anni, beh così cita la nota biografica e io a questo faccio riferimento. Sì, sì, no, lo voglio, non volevo mica togliermelo, è stato così pregassiato, ormai me le sono conquistati i gradi. Ecco, allora, sperando di incontrarci nuovamente per una tua prossima pubblicazione, ti auguro davvero buon lavoro e grazie, grazie per essere stata con noi ad Angelica Isola. A presto. A presto, grazie. Grazie.